il treno regionale 10 0 7 0 di trenitalia proveniente da aosta e diretto a ibrea delle ore 5 e 56 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 10 11 9 di trenitalia proveniente da ibrea e diretto aosta delle ore 6 e 24 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma donnazone bard beres chatillon news il treno regionale 10 0 7 4 di trenitalia proveniente da aosta e diretto a ibrea delle ore 6 e 24 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a borgo franco il treno regionale 42 37 di trenitalia proveniente da ibrea e diretto aosta delle ore 6 e 55 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma berres chatillon il treno regionale 31 0 4 7 di trenitalia proveniente da torino porta nuova e diretto aosta delle ore 10 e 45 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma berres chatillon il treno regionale 31 0 4 7 di trenitalia proveniente da chivasso e diretto aosta delle ore 10 e 45 e in arrivo in ritardo al binario 2 invece che al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma berres chatillon il treno regionale 31 0 4 8 di trenitalia proveniente da aosta e diretto a chivasso delle ore 18 e 55 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma ebrea chivasso torino porta susa 4 menancia 4 3 2 6 6